ciao amici sono molto felice di tornare con voi oggi per questo nuovo video oggi vi presento i sette migliori smartphone huawei del 2021 come tutti sappiamo lo smartphone è un must di questi tempi non solo ti tiene connesso ma puoi anche usarlo per fare le tue ricerche quindi è essenziale avere un dispositivo di qualità se si vuole godere di grandi caratteristiche ma prima di andare avanti vi invito a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e già che ci siete non dimenticate di attivare la campana di notifica per scoprire i nostri prossimi video quando saranno disponibili hai fatto allora possiamo scoprire insieme i sette migliori smartphone huawei del 2021 apprezzerete la sua eccellente memoria interna di 128 gigabyte questo permette di memorizzare molti dati senza utilizzare una scheda di memoria inoltre questo smartphone ha un buon schermo lcd da 6,67 pollici lo schermo ha una buona risoluzione di 2400 x 1080 pixel così si può godere di un'eccellente esperienza visiva inoltre questo smartphone dual sim permette di utilizzare due schede sim allo stesso tempo ha un processore da 2 gigahertz questo è uno dei processori più veloci sul mercato apprezzerete anche la sua fotocamera posteriore quadrupla da 48 megapixel che vi permette di fare belle foto e video lo smartphone è alimentato da android 10.0 il che significa che potrai godere di un dispositivo che funziona rapidamente e senza problemi e anche potente deve questa potenza alla sua eccellente batteria da 5000 mAh grazie a questo puoi usarlo per molte ore senza ricaricarlo il huawei p40 lite è anche una delle migliori uscite del marchio questo smartphone offre un eccellente ram di 6 gigabyte grazie ad essa e il vostro telefono sarà veloce esegue i vostri compiti senza problemi e apre le vostre pagine non appena le lanciate inoltre con 128 gigabyte di memoria interna non dovrete lamentarvi della mancanza di spazio ora puoi scaricare file di grandi dimensioni senza stress inoltre con il suo sistema android 10.0 avrai una grande esperienza sui social network perché il telefono è veloce lo schermo da 6,4 pollici è anche una delle caratteristiche eccezionali di questo smartphone ti dà una grande esperienza visiva con la sua risoluzione di 2310 x 1080 pixel grazie alla sua fotocamera quadrupla da 48 megapixel più 8 megapixel più 2 e più 2 megapixel puoi scattare foto e video in hd inoltre questo smartphone completa la sua funzionalità offrendovi una batteria con una capacità di 4200 mAh lo smartphone huawei nova 8i è uno dei migliori smartphone del marchio e delle sue ultime uscite ha alcune caratteristiche molto buone prima di tutto il suo schermo è abbastanza grande e ha una buona risoluzione grazie alle sue dimensioni e risoluzione potrai godere di una migliore interazione sui social network inoltre potrete godere di una migliore usabilità per leggere e guardare video vale anche la pena notare che questo smartphone è dotato di una quadrupla fotocamera da 64 megapixel guidata da un'intelligenza artificiale grazie a questo si può godere di una resa eccellente quando si catturano le immagini e grazie alla sua funzione supercharge puoi caricare il tuo telefono al 60 per cento in soli 17 minuti quanto è conveniente sul lato dello storage si ottengono 128 gigabyte questa memoria interna vi permetterà di memorizzare una buona quantità di file e dati e con 8 gigabyte di ram potrai godere di uno smartphone veloce e fluido il huawei nova 9 si distingue per il suo design attraente è molto sottile e non vi sembrerà di avere un telefono in mano inoltre è piuttosto leggero e offre un migliore conforto di utilizzo con la sua frequenza di aggiornamento di 120 hertz si ottiene uno smartphone fluido e veloce così potrete godervi i vostri videogiochi in condizioni eccellenti per i contenuti con bassa frequenza di aggiornamento lo smartphone passa automaticamente 60 hertz in questo modo si può godere di una buona conservazione della sua autonomia quando si tratta di fotografia questo smartphone ha tutto offre una fotocamera ultra vision da 50 megapixel e un grande sensore con una serie di filtri a colori con questi il telefono ti dà un'altra emissione di luce per delle ottime foto di giorno o di notte le vostre foto saranno eccezionalmente nitide ha anche una batteria molto buona da 4.300 mAh grazie a questo puoi passare un giorno intero con il tuo smartphone senza ricaricarlo infine la batteria può essere ricaricata rapidamente grazie al cavo supercharge in dotazione il huawei p30 è uno smartphone 4g che offre un'ottima esperienza online questo è possibile grazie alla sua connettività di rete senza problemi viene fornito con una capacità di archiviazione di 128 gb che ti aiuta a mantenere tutti i tuoi file d'altra parte prende due schede sim quindi non devi scegliere quale dei tuoi numeri usare questo telefono rivela il futuro della fotografia con la sua tripla fotocamera leica ora hai l'opportunità di catturare il mondo come appare la sua fotocamera principale ha una risoluzione di 40 megapixel con un obiettivo grandangolare da 16 megapixel incorpora anche un teleobiettivo ultra potente da 8 megapixel con questa combinazione sarete in grado di fare ottimi scatti e quando si tratta di potenza della batteria sei ben servito con la sua potenza di 3650 mAh si può godere di diverse ore di autonomia inoltre la tua privacy è ora protetta grazie al suo lettore di impronti digitali che è integrato nello schermo tutto quello che devi fare è impostare le tue impronti digitali e attivare il sistema in questo modo le persone desiderate non avranno più accesso al vostro telefono puoi anche scegliere di bloccare il tuo telefono utilizzando il riconoscimento facciale lo smartphone huawei più 40 pro è un dispositivo ad alte prestazioni supporta diverse tecnologie cellulari 5g 4g 3g e 2g questo significa che puoi adattare la connettività di rete alla zona in cui ti trovi con 8 gigabyte di ram questo modello permette di godere di un'esperienza fluida se vuoi giocare un videogioco leggere visualizzare pagine eccetera i vostri compiti sono fatti immediatamente inoltre questo dispositivo è alimentato dal sistema operativo android 10.0 a osp senza google play store si ottiene anche uno sacco di applicazioni premium grazie alla sua galleria di applicazioni huawei preinstallate se non riesce a trovare una particolare app puoi trovarla in cerca che è una caratteristica unica di questo smartphone un altro vantaggio di questo smartphone è il suo eccellente storage offre 256 gigabyte di memoria interna abbastanza per scaricare e memorizzare molte immagini video e altri file infine puoi anche approfittare del suo schermo da 6,58 pollici e della sua fotocamera con una risoluzione fino a 50 megapixel concludiamo con lo smartphone huawei mate xs questo telefono è dotato di uno schermo pieghevole full view da 8 pollici che vi permetterà di godere di una vista eccezionale inoltre lo smartphone è dotato di un processore kirin 995g grazie a quest'ultimo godrete di un'eccellente fluidità e velocità il vostro telefono non sarà più soggetto a rallentamenti durante il suo funzionamento d'altra parte si può guardare avanti con le sue fotocamera anteriore e posteriore la fotocamera qui incorpora il quadruplo sistema leica super sensing da 40 megapixel con esso puoi catturare la bellezza del tuo mondo non importa cosa vuoi fotografare e quanto lontano vuoi andare le immagini saranno nitide gente eccoci la fine di questo video confronto dei migliori smartphone huawei del 2021 prima di lasciarvi vi invito a iscrivervi al canale e ad attivare la campana di notifica se ti è piaciuto il video hai la possibilità di mettere mi piace e condividerlo non esitare a dirci nei commenti quale di questi smartphone huawei troverete più interessante quanto a me vi lascio un appuntamento per il prossimo video e fino ad allora abbiate cura di voi stessi ciao ciao